Il comune di Torre del Greco si impegna seriamente per la tutela degli animali. Accordo fra amministrazioni e volontari del GAV per garantire un impegno su tutto il territorio cittadino. Le guardie ambientali si occuperanno delle deiezioni canine non raccolte, educando anche gli incivili. Tuteleranno maggiormente le numerose colonie feline e interverranno in caso di maltrattamenti. È un protocollo che vede la nostra partecipazione chiaramente gratuita, ma il nostro impegno che resterà sempre costante. È una situazione non semplice. Il territorio del comune di Torre del Greco conta all'incirca più di 200 colonie feline, quelle che sono censite chiaramente. Quindi è una situazione non semplice. Attualmente non abbiamo neanche la gratuità delle sterilizzazioni da parte dell'asile perché sono ferme. E quando abbiamo la possibilità di avere appuntamenti, questi sono sempre a lungo, ci sono tempi d'attesa lunghissimi. Quindi è una situazione non semplice che noi cerchiamo di gestire al meglio come possiamo con le poche risorse disponibili e con i nostri volontari. È un passo importante. Abbiamo stipulato questa convenzione che ci darà la possibilità di avere un maggiore controllo sul territorio. Nello specifico il Corpo Gav si occuperà in maniera assolutamente gratuita del controllo del randaggismo sul territorio, nonché del controllo delle oasi feline che sono tantissime sul nostro territorio comunale e che non sono ancora censite e regolamentate a dovere. Faranno anche tutta un'altra serie di attività in collaborazione con i nostri uffici, controllo dei microchip degli animali domestici, si terranno delle iniziative per poter distribuire mangime coperte per gli animali e supporteranno anche gli uffici nella progettazione di ulteriori interventi da farsi a favore degli animali. Da circa due anni sto lavorando a questo ufficio. Abbiamo raggiunto già una serie di traguardi, anche a livello di numeri di cani che abbiamo nel nostro canile comunale, numero che sta scendendo fortemente in quanto siamo riusciti sia con una campagna adozioni a farne adottare alcuni sia inserendo di nuovo i cani che vengono catturati nel proprio quartiere, microchippandoli e dandoli in affidamento alle associazioni e ai comitati di quartiere e quindi creando il cane di quartiere. Grazie